Il momento è sicuramente delicato, però con le nuove regole che dovrebbero entrare in vigore, probabilmente le quarantene, almeno nella fascia sopra i sei anni a scuola, si dovrebbero ridurre? Si dovrebbero ridurre, aspettiamo le circolari ministeriali rispetto a queste decisioni, però possiamo sottolineare che ad oggi i casi che si verificano di positività all'interno degli istituti scolastici in tutta la provincia che vede più di 20.000 studenti in classe in ogni ordine e grado di scuola risultano intorno alle 35-36 unità. Rispetto a questo l'amministrazione centrale, le scuole hanno provveduto a lavorare tutta l'estate per mettere a regime determinate regole e determinate anche situazioni rispetto a una regolare gestione per far tornare i ragazzi in presenza, perché non ci dimentichiamo che prima di tutto la scuola è socialità, socialità con l'altro. Devo dire che i nostri ragazzi, soprattutto anche i piccoli, quindi i bambini di sei anni, che sono obbligati comunque a portare la mascherina, hanno rispettato in modo direi quasi ammirevole le regole che gli sono state date dalla scuola e dalla famiglia. C'è stata una grande sinergia fra scuola e famiglia rispetto alle regole che ci ha portato a rispettare la pandemia. Solitamente il contagio non parte dalla scuola ma è portato a scuola, quindi la scuola è un ambiente sicuro. Ci sono la gran parte dei docenti della provincia, ci risulta vaccinato, è una delle percentuali forse più alte anche di regione toscana, le operazioni per la scansione del Green Pass avvengono in modo tranquillo. Per il personale che ha deciso di non vaccinarsi non risultano criticità rispetto alla presentazione del tampone effettuato.